Un momento toccante, l'occasione per ricordare i militari che hanno perso la vita nella missione internazionale di pace a ISAF partita nel 2004. Il convegno dal titolo Afghanistan, quanto ci resta, si è svolto nell'aula Michelli del Consiglio regionale del Lazio. È stato organizzato dall'Associazione Caduti in Guerra in Tempo di Pace. C'erano i familiari di alcune delle vittime, accumunati tra loro dallo stesso dolore e quel dolore che neppure il tempo riesce a lenire, una ferita che resta aperta perché non si rimarginerà mai. All'incontro, oltre ai giornalisti e ai rappresentanti delle Forze Armate, c'erano anche Dora Pinelli e Nunzio di Lisio. I genitori del caporal maggiore Alessandro di Lisio, 25 anni di Campobasso, anche lui è una delle tante vittime della guerra in Afghanistan. Il giovane paracadutista dell'ottavo genio dei guastatori della Folgore è morto il 14 luglio del 2009 nell'attentato rivendicato dai talebani messo a segno a 50 chilometri da Farah. Una morte che ha destato dolore e commozione in tutto il Molise. Il suo sacrificio ricordato con una lapide realizzata vicino al monumento ai caduti di Campobasso. L'Italia ha pagato un tributo di sangue pesantissimo. Oltre 50 militari partiti per l'Afghanistan per difendere popolazioni inermi e che invece lì in quella terra hanno lasciato la vita.